I volti dei cinque nuovi santi sorvegliano la piazza assolata, le loro vite raccontate sul sagrato della basilica illuminano dal passato la chiesa di oggi in cammino sinodale sfiorata da ombre e tensioni. John Harry Newman è il teologo del primato della coscienza e le quattro donne che lo affiancano sulla facciata della basilica indicano la strada dell'intelligenza dell'anima e della carità. Papa Francesco nell'omelia ispirata dal Vangelo di Luca sui lebrosi guariti invita a non lasciarsi paralizzare dalle esclusioni ma gridare al cielo per essere risanati da paure, vizi, chiusure e dipendenze, gioco, soldi, televisione e cellulare. Dire il nome di Gesù, pregare per camminare con passi umili e concreti e prendersi cura dei fratelli lontani. Infine ringraziare. Ringraziare non è questione di cortesia, di galateo, è questione di fede. Un cuore che ringrazia rimane giovane. Il Papa ricorda la preghiera semplice di Marguerite Baes, la laica svizzera che ha fatto della sua vita una donazione silenziosa e del pensatore inglese, padre della teologia moderna, preferisce citare l'elogio del quotidiano, la possibilità di essere da cristiani, luci gentili tra le oscurità del mondo. Tra i fedeli il Presidente della Repubblica Italiana e il Principe di Galles per rendere omaggio alla santità cristiana.